Guarda tutti i telaini uno per uno e guardi se vedi le varoe, guardi le api, cioè facci un'analisi abbastanza... Guarda le api, se c'è qualcuna con le ali punte, se vedi la varova... Qui c'è stato lì? Qui c'è già? L'arrivi. Tutto il canale usa il canale. Guarda gli occhi, potremmo cercare la vostra vescola. Che cosa deve essere lì? Si, va bene? Non ci sono, non ci sono. Grazie. Questa dovrebbe essere color fuoio, marroncino, ma è ancora un pochino chiara perché si è frecoltata. L'ho messa nelle condizioni migliori per poter lavorare. Parola, niente. Dopo ti dirò quanta varroa, dopo oggi, quanta varroa è caduta di noi. Grazie. No, ma voglio vedere se la vuoi fotografare, se ti piace. Quanto ce ne hai ancora tre? Ecco. Ah, ma voglio vedere se la vuoi fotografare, se ti piace. Ecco, non voglio vedere se la vuoi fotografare, se ti piace. Grazie. 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 Guarda che ci sia un pochino di inquinamento con la carne. Non c'è comunque il finamento con la bronzica? No, no, no. Eh, ma vai. Sì, sì. Ora vado a assumerlo qui, questo. Tolgo il celaietto diagnostico, guardiamo quanti varroi ci sono. Aspetta che prendo la leva. Non metterlo in spesso. È spesso? No. Dovelo? Dove sono i fetti resti. Non trazione limite. Ok, potendo riuscire. Si, non li metto, ok. Non si, non è sembrata. il tetto lo posso mettere? eh? lo metto nel tetto? si si, il tetto, no, il tetto era vestito un po' più di... ho capito, aspetta che vado a prenderla vai che spengo la telecamera, ci sono le varue cadute, eh? ci sono le varue no, non, 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 non...